Il giusto per essere 2013, un'alzata di mano, un forte grido per il medico Danny Go! I love you! I love you! Signori e signori, benvenuti a Gioi! In consova da questo momento in poi, ladies and gentlemen, is DJ Itai! I love you! I love you! I love you!